Per avere timidi segnali di risveglio del mercato immobiliare bisognerà aspettare il secondo semestre 2012. Lo afferma la FIAIP nel tracciare il bilancio dell'anno appena passato. Nel 2011 rallenta la domanda e aumenta l'offerta rispetto al 2010, con compravenditi in calo del 5,94% e prezzi in discesa del 7%, in calo anche gli affitti meno 3,65%.